Un sopralluogo per verificare a che punto sono i lavori contro il rischio idraulico realizzati nell'area metropolitana tra Pistoia, Prato e Firenze, nei territori tra i fiumi Arno, Bisenzio e Ombrone. A fare il giro tra le opere idrauliche il presidente della regione toscana Enrico Rossi insieme all'assessore all'ambiente Federica Fratoni e al presidente del consorzio medio Valdarno Marco Bottino. Opere importanti per la sicurezza dei cittadini, la regione toscana sta puntando su interventi e manutenzione costante, uniche soluzioni contro il rischio idraulico. E per questo i cantieri delle casse di espansione di Pontassio a Pistoia e Ponte Attigliano a Prato sono stati al centro del tour del presidente Rossi. Lo che mi preme dire è che abbiamo fatto la riforma dei consorzi, abbiamo esteso il tributo di bonifica a tutti quelli che dovevano pagarlo e abbiamo assunto un ritmo di finanziamento dei consorzi e di finanziamento del genio civile che abbiamo anch'esso ristrutturato e riorganizzato a livello regionale, per cui non sono interventi una tantum, sono interventi che saranno continui nel tempo. Tutto questo sarà più semplice anche grazie alla riforma dei consorzi di bonifica, una vera rivoluzione in tema di difesa del suolo e di prevenzione. Crediamo che i territori avranno un epocale cambiamento nelle manutenzioni che spesso venivano trascurate perché non fatte da consorzi di bonifica. Di questo noi siamo portatori di questo messaggio, aspettiamo i cittadini dal punto di vista del confronto, ma credo che su quello che facciamo ormai ci siano poche discussioni. Siamo disponibili, credo che il territorio abbia bisogno di sempre più impegno. Nella piana di Pistoia la regione ha investito 6 milioni di euro in manutenzione straordinaria, 10 di manutenzione ordinaria e 8 milioni in investimenti. E quindi è possibile oggi fare una politica di programmazione che è l'unica che ci consente di difenderci da rischio idraulico, ovvero quella non solo di mettere in campo opere infrastrutturali importanti come questa cassa di Pontassio, ma come è stata la cassa della Querciola che già ha dato grossi risultati, e poi il tutto accompagnato da un'attività sistematica di manutenzione su tutto il reticolo idraulico. Altra tappa del sopralluogo, la cassa d'espansione di Ponte Attigliano nel comune di Prato, realizzata con 3 milioni e 75 mila euro, finanziati interamente dalla regione con i lavori del Consorzio Medio Valdarno, che si concluderanno a fine agosto. Poi uno sguardo ai lavori di manutenzione sul Bisenzio e l'inaugurazione dello sportello del Consorzio Assesto Fiorentino. Infine il Presidente Rosso e l'assessore Fratoni sono andate a Largingrosso per visitare i lavori di manutenzione in via dell'isolotto a Firenze.